Perazzolo Aprete sul flash, il pallone messo in mezzo Danversa la controlla E poi sul mancino di Cardinali Il miracolo di Goletti Falza da testa, lascia andare il sinistro Palla sul secondo palo, molto buono, ancora Guarrazi da lì Va a calciare, strepitosa La risposta di Stillo La posizione romana che trova sulla sinistra Gaetani, serve in zezza Zezza, la risposta di Gianfrilli Grazie